insomma Valentina, la cosa è semplice, noi stiamo qui e diciamo un po' così, qualche informazione, qualche notizia, passeremo in diretta, quindi tutto in diretta, non si può rifare niente sono news, si parla di cinema, di musica, di un sacco di cose, insomma, cose che dovrebbero essere carine, interessanti no, no, è fattente, è interessante, ma c'è interattività interattività, ciao ciao, saluto vale salvo ma che ci fai qua ciao ma che cos'è sta roba ma te, ma che c'è, ma scusa il tuo numero di telefono è sempre lo stesso ho cambiato, l'America, le cose ma che vi conoscete, ma ma che ti ho cercato tantissimo vabbè, salvatore, scusa Valentina, no, scusalo, perché ti stai importunato salvo salvo, 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 vai a prenderli ecco ma pure salvo va pure toccato, va pure toccato va bene comunque, poi c'è un numero di sms, no, la gente, la gente manda gli sms, pieno così, gente che ci segue, la gente dall'Italia, ci mandano messaggi ma dall'Italia arrivano i sms c'è un numero c'è un numero, 392-888-9912, mandano gli sms che è una cosa tipo carina, interattiva, è una cosa così ecco però ne sta arrivando uno come sta arrivando? che c'è scritto? siete in onda? siete in onda? siamo in onda siamo in onda, Tony siamo in onda siamo in onda deficientemente gretino sigla sigla siamo stati uniti, eccoci qui in diretta dallo scantinato del signor Tony, abbiamo messo anche la tovaglia, abbiamo Valentino Rodovini, l'ospite di oggi ospite, ospite di oggi, ti piace? è bella, è la tovaglia, ma che pagata insomma no? se volevo essere sincera, voglio dire, questo quadretto no dai su, sbagli ti avevo detto Pierpaolo che faceva schifo, c'ha ragione Valentina cioè se non è sta al picnic, non lo so hai ragione, fa schifo, toglila Pierpaolo, toglila, io ti avevo detto, la tovaglia no, la tovaglia no, è pure di plastica, è pure di plastica hai ragione Valentina si parla di scena, è più dura di chi era hai ragione, guarda, però ecco, ecco, magari per fare meglio, tipo una tovaglia da poker verde, meglio la tovaglia no, dicevo no, la tovaglia verde da poker no meglio, guarda, così meglio, niente, eh, te l'ho detto, vedi, ascolta Valentina insomma, siamo qui, siamo stati uniti, chiocciolacavisù.it, questa è la mail a cui mandare i vostri messaggi, Valentina Rodovini, oggi è con noi, quindi gli sms sono tutti dedicati a lei non c'è tema del giorno migliore, voglio dire, 392, ecco qua, in tutto il suo splendore, 392, 88, 899, 1, 2 noi in genere, ecco, ci intratteniamo con news di altissimo contenuto anche artistico, spessore, spessore, tipo, non piaccio tanto le classifiche, per esempio ce n'è una qui su Maxim, le donne, le donne meno sexy del pianeta anche questo di solito è il nostro livello culturale, insomma, le donne, donne più sexy, donne meno sexy, piace, no, come tema guardando un po' anche quello che propone la tv, no, generalista, noi pensavamo, tipo, no, certo andiamo incontro ai gusti del pubblico Sara Jessica Parker è stata, secondo questo sondaggio condotto dalla rivista Maxim, americana, la donna meno sexy del pianeta tra l'altro hanno fatto proprio questi carinissimi giornalisti, una bella lista no, non fa questa faccia di pego non sei d'accordo? questa è Sara Jessica Parker, la vediamo in questo punto in immagine sexy, la trovi sexy, guardala sexy sembra la versione brutta di Barbara Streisand non hai, non mi toccato a Barbara Streisand non te la tocco proprio, guarda Valentina, non te la tocco proprio abbiamo colpito malissimo salvo per favore a lui non piace Sex and the City no, io odio Sex and the City e con le quattro dementi tra l'altro non le sopporto tra l'altro, siete uomini, cioè la sostanza è questa forse, forse comunque non importa tra l'altro l'hanno definita una donna senza fascino in mezzo a un gruppo di donne totalmente prive di fascino Maxime, Maxime, i miei amici di Maxime non siamo stati noi, ma ce ne sono altre ce ne sono altre, insospettabili al secondo posto troviamo Amy Winehouse, la cantante Rehab, no? in presente pezzo anche qui l'hanno fatto l'hanno fatto a strisce, insomma, hanno detto delle cose terribili terzo posto chi c'è? Sandra Ho, Sandra Ho è la dottoressa Cristina Chris Anatomy Chris Anatomy esatto, lei come si chiama? beh, no, quella era quello sono io, non è Sandra Ho potrei essere, adesso questa non è decisamente lei no, però posso diventarlo al quarto po' ecco la guarda, no, guarda, neanche se proprio ti piglia cazzotti in faccia diventi così, secondo me ma Sandra Ho, non faceva anche no, ha il suo carisma, ha un bel personaggio, però è bravissima, questo è vero questo è vero comunque, questi ci sono andati pesanti anche con Madonna se ne sono presi l'ex regina del pop erotico, ora vecchia donna ebraica tanto anche un po' antisemitico c'è un leve sentore io mi dissocio, perché secondo me Madonna arriva dappertutto sicché io mi dissocio cinquant'anni in questa qua, qua ci dissociiamo un po' anche ora insomma, voglio dire che è bellezza magari un po' po' ata però insomma e poi, per chiudere, c'è Britney Spears vabbè, ma lì ma lì, ma lì ma lì, ma lì ma lì, ma lì, ma lì ma lì, ma lì, ma lì, ma lì ma lì, ma lì, ma lì, ma lì, ma lì drogata, la muriaga, la rasata zero la rasata, la rasata, la rasata tutto ata lì, ma lì, ma lì, ma lì, ma lì, ma lì, ma lì la giusta distanza, no? c'è nel senso la giusta distanza secondo me la giusta distanza gancione, gancione, gancione sì, anch'io la grande televisione è così, è tutto collegato, tutto connesso c'è un filo conduttore che parte dall'inizio e neanche finisce la fine ricomincia l'eterno ritorno niciato tutto questo per dire che Valentina Rodovini oggi è ospita da noi a Siamo Stati Uniti protagonista del nuovo film di Carlo Mazzacurati che in questo momento nelle sale è stato presentato alla festa del cinema di Roma insomma è stata tra l'altro mi sembra di capire che questo è il tuo primo ruolo da protagonista è vero, diciamo in Italia in Italia, ecco perché in realtà prima del film di Carlo Mazzacurati è girato un ruolo da protagonista nel film di Mark Rotmund che è già uscito? che è il regista della Rosa Bianca ma è già uscito qui in Italia? no, in Italia no è uscito in Germania in tedeschi ed uscito in Alemania negli Stati Uniti sicuramente uscirà prestissimo uscirà prestissimo noi correremo a vederlo mi raccomando infatti, questo è un bel minuto te lo garantiamo, te lo promettiamo ok la giusta distanza dicevamo quindi un cast anche importante perché ci sono Battiston, Ventivoglio Battiston, Ventivoglio che fa più di un cameo insomma c'è un ruolo abbastanza insomma c'è bravissimo bravissimo sì, la giusta distanza e ce la vediamo un pezzettino e poi ne parliamo ok certo ok ma per un giorno è con me grazie ciao 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 ciao